Oggi è prevista la sentenza sul calcio scommesse. In appello il Teramo sta chiedendo di restare in Serie B con una penalizzazione. E anche nel processo di Art Soccer, con molte squadre penalizzate nei punti e una miriade di tesserati inibiti, squalificati e con forti ammende, c'è il Catania che chiede la riduzione della penalizzazione di 12 punti in Lega Pro. Può darsi che per il club etneo spunti qualcosa. Bisogna però aspettare le sentenze. Lunedì sera, ultimo giorno del calcio mercato estivo e molte sono alle strette finali. Per quanto riguarda il Crotone, sembrerebbe che Nicola Pozzi, svincolatosi dal Parma, potrebbe indossare la maglia rosso-blu. Sta a lui decidere. Il Crotone è fiducioso. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Invece il calcio mercato della Vigor Lamezia è ancora aperto, vista soprattutto la necessità di inserire giocatori in entrata. Ma a giudicare dalle dichiarazioni del DS Pagni non manca molto alla conclusione. In una settimana sono stati ufficializzati sei giocatori sommati agli under e agli over già presenti da prima. Bisognerà però puntellarla con almeno un paio di under del 94 e del 95, preferibilmente sulle fasce esterne della difesa, con un portiere bravo e un'altra punta centrale. C'è ancora un po' di tempo. Passiamo a Capezzi, intervistato dopo l'amichevole di Roscella. Leonardo Capezzi, la seconda partita in maglia rosso-blu. Cosa ti sembra questo Crotone in questa fase iniziale? Una buona squadra. Stiamo lavorando tanto durante la settimana. Quindi è normale che magari siamo un po' più sulle gambe. Però una buona squadra sta lavorando bene. Più che passa il tempo e più che troviamo la condizione giusta. L'anno scorso a Varese hai avuto anche modo di giocare insieme a Barberis, un calciatore che c'è anche qui a Crotone. Ma il tuo ruolo è quello più di regista o di interditore? No, come avevo già detto, oggigiorno bisogna saper fare tutte e due le fasi in mezzo al campo. Mi piace impostare, ma anche interdire bisogna impararlo a fare e farlo sempre nel migliore dei modi. La prova odierna è stata forse migliore rispetto a quella di Matera e ce ne sarà un'altra con il Rende. Pensi che il Crotone arriverà preparato all'inizio del campionato, visto che poi sarà così difficile? Sì, sicuramente. L'importante è arrivare pronti per la prima subito col Cagliari, stare bene là e disputare una gran partita. Questa è la cosa più importante e per trovare la condizione passa dall'allenamento quotidiano e da queste amichevole. Parliamo delle tue ambizioni personali. Pensi di poter giocare titolare in questo Crotone? No, questo lo deciderà il mister. Io sono venuto qua, mi hanno chiamato, sono molto contento di far parte di questa squadra, di questa società e ogni giorno darò tutto in campo, in allenamento per conquistarmi un posto da titolare e per aiutare la squadra. Un'ultima battuta, cosa ti è parso della città e del pubblico, visto che sei arrivato da poco? No, al pubblico mi hanno accolto benissimo, anche la città. Anche oggi vedevo tifosi numerosi che sono venuti a vederci. Queste sono belle cose che fanno piacere. La città, vedendola passando per andare al campo, insomma, mi sembra molto carina. Poi avrò modo durante l'anno di conoscerla meglio. Grazie. Restiamo nel calcio e in quello giovanile. Abbiamo fatto visita alla Big Sport che ha cominciato la nuova stagione. Nel mentre da qualche altra parte ci sono i sorteggi legati alla Champions, si parla di Juventus, anche perché poi ci sarà da dire qualcosa in merito, presumo che l'aver iniziato questa nuova stagione con la Big Sport dia grande soddisfazione. Vabbè, stai facendo un paragone che non sta né in cielo né in terra. Al di là di tutto che i sorteggi a me non interessano, in quanto sono un milanista, per cui non interessano. Per quest'anno? Per quest'anno, poi l'anno prossimo si verrà. Comunque, noi abbiamo ripreso con i ragazzi giovanissimi allievi regionali, in quanto sono tutti ragazzi reduci dall'anno scorso, che hanno fatto una grande stagione, sia con gli allievi che con i giovanissimi. Ci stiamo organizzando perché siamo in condizioni veramente pietose, allenarci in questa struttura dove dobbiamo fare tutto noi, diciamo, prepararlo, mettere le rete, bagnarlo, tirarlo e niente. La stagione abbiamo iniziato adesso, abbiamo aperto le iscrizioni, per quanto riguarda i ragazzi della classe 2000-2001, 2000-2001, 2002 e 99. Poi, a breve, per il 30 settembre, apriremo la scuola calcio nella nuova struttura dell'ASD, alle Crotone, in via Mastracchi, di fronte i Pullman Fazzolari, e li faremo scuola calcio con i bambini a tutti gli effetti, dai 5 anni agli 11 anni. Già da questo momento, diciamo, dal lunedì apriamo le iscrizioni per quanto riguarda i piccolini. Per quanto riguarda quelli più grandi, che fanno i campionati regionali, giovanissimi e allievi, chi è interessato può venire qui al settore B, alle 6, per chiedere informazioni oppure per iscriversi, diciamo. Io ti faccio i complimenti perché, al di là di tutte le incongruenze, tutte le situazioni un po' negative che ci sono, e non sono cose di poco conto, sei sempre all'altezza della situazione, sei sempre pronto, nessuno ti ferma. A me, noi, fra non mille, un milione di difficoltà, siamo sempre rimasti in piedi. Poi, purtroppo, ahimè, operiamo in una città dove, se fai tante cose belle, la gente cerca di remarti contro. Se fai qualcosa di buono per i bambini, c'è quello invidioso e così via. Le società non hanno collaborazione. Esce una società al giorno dove raccontano delle barzellette ai ragazzi, ai genitori, esempio, loro hanno diritto ai campionati regionali, in quanto ancora è uscito l'organico e come campionato regionale ha diritto solo a Biggy Sport. Ma la concorrenza non è così, deve essere leale, non sleale. E ai ragazzini dire la verità, che raccontare delle barzellette, giusto per accaparrarseli e prendersi la 30 euro al mese, mi sembra una cosa ingiusta. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.